La formazione si inserisce in un percorso che chiaramente consta di reclutamento di personale, adeguamento di attrezzature, acquisizione di apparecchiature particolari, ammoglio potenziamento. Già a Foggia, presso il Polichinico di Foggia, presso i riuniti di Foggia, esiste già un patrimonio di esperienza, anzi piuttosto consistente. Per quanto riguarda l'intero percorso, non è possibile isolare la chirurgia bariatrica dall'intero trattamento della superobesità. Le cosiddette unità metaboliche che si devono occupare del pre-ricovere e poi del follow-up sono fondamentali perché l'esito sia positivo. Il Polichinico di Foggia si cambia ad essere un punto di riferimento regionale e interregionale, sia sulla storia che anche sulle prospettive che stiamo mettendo in cantiere. Questa giornata, come altre giornate che abbiamo già realizzato, nascono dalla collaborazione che esiste tra la componente ospedaliera della chirurgia e la componente universitaria, dove noi ormai costituiamo un gruppo unico, dove poi nell'ambito di tante iniziative che prendiamo esiste pure la parte formativa. E la parte formativa riguarda soprattutto poi la nostra scuola di specializzazione. Io dico nostra, io sono ospedaliero, però faccio parte di questo Policlinico. Quindi se noi dobbiamo tenere su il vessillo di questo Policlinico, che tra le sue mission, oltre la cura di tanti pazienti, c'è anche quella di formare dei giovani chirurghi, nell'ambito di queste iniziative esiste appunto questo fatto culturale e quindi l'organizzazione di questa giornata. Questa giornata segue ad un'altra giornata che abbiamo già organizzato la settimana scorso, dove abbiamo parlato di chirurgia della tiroide, di chirurgia del cancro e del colon. Quindi formazione e al tempo stesso anche divulgazione. Cioè oggi bisogna così farsi conoscere, far vedere tutto quello che si fa, anche perché tutto quello che si fa è frutto di un'organizzazione, è frutto di un impegno continuo, costante, che parte dall'organizzazione dell'ospedale e finisce poi alla professionalità dei singoli operatori e dei gruppi di operatori che si dedicano poi a queste cose. Utilizzando tutti questi mezzi diciamo tecnologici di cui siamo dotati, si riesce a organizzare una giornata come questa, dove facciamo vedere in aula quello che succede nelle nostre sale operatorie. In una regione come la Puglia, dove tra l'altro siamo in attesa di un piano che possa poi prevedere l'organizzazione di centri per il trattamento dell'obesità, così come è stato fatto e viene fatto sistematicamente per altre patologie, vedi la creazione delle breast unit, vedi la creazione di unità che riguardano la chirurgia oncologica, nasce anche l'esigenza di dover creare una unità, questa affoggia, che si possa occupare con una buona organizzazione del trattamento dei grandi obesi. L'obesità è una piaga sociale, è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, nel mondo occidentale è diventata una vera e propria malattia e quindi bisogna organizzarsi in tempo per poter fronteggiare le esigenze di questi pazienti obesi e quindi proporre un'organizzazione degli interventi chirurgici che possano trattare la grande obesità. La chirurgia dell'obesità è una chirurgia che va avanti da diversi anni, che però è cambiata a differenza di quando è partita, grazie all'avvento delle nuove tecnologie, cioè della laparoscopia e della chirurgia robotica. Per cui abbiamo incominciato pian piano a confrontarci, avevamo esperienza, siamo partiti dalla nostra esperienza di chirurgia laparoscopica, di chirurgia generale, di chirurgia laparoscopica e poi di chirurgia robotica, perché non si può fare tutto questo se non si parte dalla BC, diciamo. Dopodiché abbiamo ampliato il nostro bagaglio culturale e bagaglio professionale e abbiamo incominciato a intraprendere questo tipo di chirurgia che è molto impegnativa, molto difficile e che è di crescente richiesta, io immagino, perché purtroppo la popolazione degli obesi sta aumentando. In Puglia, per di più, ci sono pochi centri dove si fa chirurgia dell'obesità e quindi c'è questa necessità che i nostri pazienti non vadano altrove a farsi operare, anche perché se no non faremmo i policlinici e potremmo allargare le nostre piste di atterraggio e di decollo e quindi i pazienti andrebbero altrove. Noi abbiamo cercato di ampliare le nostre conoscenze, abbiamo cercato di metterci alla prova perché abbiamo invitato una delle personalità più importanti nel campo della chirurgia bariatrica che è il dottor Giardiello di Napoli. I prossimi passi, se avremo la possibilità, saranno quelli di continuare a fare questo tipo di chirurgia perché certamente non smetteremo, certamente adesso ci vorrà anche l'aiuto delle istituzioni che ci devono consentire che questa cosa possa essere, possa e secondo me debba essere svolta in un ambiente ospedaliero dove c'è una chirurgia generale universitaria e ospedaliera di altissimo livello e che deve per forza garantire alla popolazione della Puglia questo tipo di trattamento per queste patologie. Sono venuto a dare il mio contributo nel supporto a questa iniziativa di creare un centro dell'obesità qui a Foggia fondamentale per Foggia e per tutta la Puglia, vista la necessità ormai di trattare i pazienti obesi che sono ormai un problema di salute sociale molto importante, soprattutto al sud, evitare la migrazione sanitaria e quindi fare sì che cresca questo centro e ne ha tutte le possibilità e tutte le capacità sia professionali che organizzative per poter sempre di più affermarsi come un centro di riferimento in tutta la Puglia per evitare la migrazione sanitaria, per trattare i pazienti con obesità grave che ormai sono un problema veramente di natura rilevante. L'obeso grave è un obeso che ha un indice di massa corporea, quindi un rapporto tra il peso e l'altezza che supera 40 o anche prima se sono presenti patologie croniche concomitanti. Ricordiamo che l'obesità purtroppo è sempre accompagnata da un corollario di patologie croniche come patologie cardiovascolari, patologie respiratorie e patologie metaboliche come il diabete. Quindi è fondamentale assolutamente trattare questa patologia perché si ha nella maggior parte dei casi una risoluzione anche completa di tutte le patologie ad essa correlata. La percentuale di successo sono elevatissime se i pazienti vengono ben selezionati, se effettuano un percorso anche con supporto psicologico e un percorso del gruppo multidisciplinare quindi dal punto di vista endocrinologico, dietistico e cardiovascolare, tutte le patologie ad esso correlate in maniera tale da arrivare nella migliore e con un rischio perioperatorio il più basso possibile. L'intervento chirurgico può essere sempre cavato da rischi ma se l'esperienza è sicuramente un ambito di un centro di riferimento questi vengono minimizzati come qualsiasi intervento chirurgico. L'intervento chirurgico per l'obesità grave siamo arrivati perché ormai si è preso coscienza che il paziente obeso è una malattia importante con delle comorbidità importanti, con un impatto sociale importante per cui affrontando questo tipo di patologia così grave si è spinti a fare interventi anche un pochettino più demolitivi e quindi portare i pazienti al tavolo operatorio. Gli interventi adesso sono tutti affrontati con tecniche mini-invasive, quindi tecniche laparoscopiche, tecniche robotiche, tecniche che consentono una rapida ripresa dell'attività sia nell'immediato post-operatorio che nella quotidiana attività domiciliare. Gli interventi che abbiamo visto sono un intervento di sleeve gastrectomy, cioè una sezione gastrica verticale che riduce tecnicamente lo stomaco di due terzi e fa in modo che il senso della sazietà arrivi precocemente in modo da non arrivare ad abbondanti libagioni. L'altro intervento che abbiamo visto è un intervento di bypass gastrico nella quale si hanno due effetti. Uno restrittivo, cioè con la riduzione della tasca gastrica, quindi lo stomaco viene ridotto di volume, ma non solo perché viene bypassato il tratto biliopancreatico di circa un metro, per cui le sostanze alimentari hanno un contatto con le sostanze che la fanno assorbire e quindi metabolizzare più in là nell'intestino, quindi con un ridotto assorbimento. Sono tecniche che si definiscono restrittive e malassorbitive. Le due tecniche non sono mutuamente esclusive, per cui si possono rendere personalizzabili in base al paziente. Ci sono pazienti che si giovano più di una tecnica restrittiva rispetto alla malassorbitiva e viceversa. C'è una selezione importante del paziente, non è che per perdere un po' di peso si va direttamente all'intervento chirurgico. C'è tutto uno staff, c'è tutto un team che collabora con noi, che seleziona e prepara i pazienti candidabili all'intervento chirurgico. La percentuale di successo sono altissime, le complicanze sono basse, per fortuna, però alcune complicanze sono potenzialmente letali, tipo la fistola enterica, la fistola gastrica o le infezioni. La possibilità di riprendere peso dopo qualche anno in teoria c'è, molto deriva non tanto dalla tecnica utilizzata ma dalla compliance del paziente. È chiaro che se un paziente ha la tendenza a lasciarsi andare, a riprendere le abitudini alimentari che aveva prima dell'intervento, questo può un pochettino inficiare l'intervento. Ma le nuove tecniche si stanno affinando sempre più in modo da poterci far affrontare l'eventuale ripresa del peso in maniera efficace. Grazie a tutti.